Ciao a tutti ragazzi, sono Pistole Pietro per vedere questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati con GTA V per continuare il World True. Oggi andremo alla F a casa di Franklin per vedere che missione è. In questo episodio abbiamo fatto la missione Un favore con Tonia. Abbiamo sostituito... Stretch sta per uscire! Grande! Ma chi è? Chi è Stretch? Vabbè, a parte questo... Nel scorso episodio abbiamo sostituito il nostro amico JB nel carro attrezzi con Tonia. E oggi andremo a fare questa missione. Tonia c'è ancora, ma non c'è più per fortuna. Ok, ci possiamo mettere qui. E vediamo di che missione si tratta. Ah, eh... Ah, c'è Denise... Ma vado Franklin proprio... Non c'è più per fortuna vedere. Ti sto soppiata e ti dice... Meglio che non mi faccio poco e ti dice... Ah, sono pazza. Beh, alla fine... Come me l'hai giusto. Ti ha Denise... Eh, quanto manca ancora? Ehm, è uscita dal cancello. Oh... Nelle ore di mette in porta in porta... C'è stata interessante. E avevo fatto invece che avevo... Sdoppiato un sacco di gremise. Non mi ricordo come l'ho fatto. E ho fatto... E ho fatto troppo rifare una volta. E ho voglio troppo rifare. Però non mi ricordo da molti fatti. ecco si è già stupido va bene cioè è veramente fuori cosa si ha a caffè quello là andiamo andiamo a camminare dobbiamo andare a fare le gang anche voi frappiate chi è questo ok voglio capire di un tipo di ball ma io voglio capire di un tipo di acce ok di una volta arrivati mi troppo non si può correre qua ok questo è un bellissimo furbune un famoso furbune di lama c'è pure la taglia a lama a un G non è mai credo perché è G ho visto questo nome è Davis ok Chocke il cane si chiama Chocke wow non me lo sarei mai aspettato andiamo a guardare il cuoccio più vai in Woodbool guarda ma ci siamo ancora lassati in quella zona in un momento è la zona qui nato in acqua e andiamo e guarda un po' che roba e freddo mi reguia caro l'amore e che sono flessi Beh, non c'è un bambino di religione, c'è cosa da coda di prendere due, manando da gente anche se fiazza di giro, è un bambino da C, non c'è un team. Non c'è un colore, non c'è un colore... C'è un colore da C. ...il primo, credo. E' il primo colore... ...i ce il cazzo... ...dotto? ...e' t'agga, c'è un colore di un colore nella mia e... Il fattore delle cose, un fattore assolutamente legale, che dà a dire. E io credo che chi mi ha volato questa nuova? Mi vuole, mi vuole di male. Lui è la scritta Vinewood, è quella lì, la scritta Vinewood. Ooooooooh, la pizzo. Dì, ciao, la fotografia. Dove lo fa? Ah, eccolo là, ok. Mentre nel frattempo lui, parla con gente. Alla, basta. Abbandonare, nessuno li riconosce. E le pirido. Ciao B, sei bello. Io non le pirido, ok. Man, fuck y'all. I ain't there a law against you, Markaz Gase's insignia, Mads Wham, motherfucker. Oh, so what's up now, nigga? You snitchin' a me, nigga? Ma no, 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 no. E- E infine grande, incredibile, scuola della mia vita. Non si può fare, ti vedo... Anche da un uomo quindi lo troppo bene. Impossibile vedo, o meglio. E' possibile ma si vincere tutto il uomo. Quindi... Non lo so di nulla, non lo so di nulla. Ok... , non dov'è essere senza capire. D'accordo, non vedo, non vedo. Non credo ancora, non credo ancora. Positano, vedendo il diamantino che in vain. No, no... Non ho fatto. Non mi sono imbarato. Un dollaro. Ii, 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 ii... Eccolo! Dai ciò qua, li andiamo a prendere! Non so come era l'Ubera questo con me, credo. Non è stato possibile, non mi saremmo. Ho giocato prima di nessuna, perché sono proprio luce. Questi sono fassi. Eccolo! Eccolo! Dai, andiamo a prendere il personale più bello. Ciocco, vedilo! Non mi raccaracchiamo, non la sfondiamo! Non siamo in livelli crocce! Oh ma dove sta andando? Nel dry training! Mi raccoglie! È pure cagliuto! No, lo tocca tutto mio! Prendilogo, c'è una sciocco! Troppo, prendo! Ce la fai! Crediamo. Problema. io sto facendo un obiettivo per una medaglia d'oro di saldere su una di shock per 12 secondi quindi che stiamo un attimo per 12 secondi lo sono ragazzi si, di nuovo sono faking H rimetto se D si nasconde all'interno ok vediamo se D si nasconde qui D se qui no D non è qui e allora D sei qui D sei qui voglio vedere se sei qui D ti riprovo vatti a vedere devi essere qui no c'è un problema ora ora c'è un problema posso farlo vedere questa posso farlo vedere penso che non posso farlo vedere un po' se si dai non si ci sono molti volte di questo ecco lo sapevo eh D eh D dove sei spoiler lo so già che è qui scusate ah no no va bene è quella di qui scusate noi andiamo a prendere qua, un po' più da vicino alla scena andiamo a filmare lui e stiamo a vedere bene come se lo mangia a parte che non è femmina, sto toccando di ma non c'è nessuno di ctf ho messo la mano davanti perchè non c'ha più la bandana e l'ha riconosciuto proprio eh, i lammati è un po' un po' di dolino il mio però, c'è un ragazzo giustamente ok andiamo a casa dei lammati almeno eh si, diventa una casa avversa, l'avete visto si mette a fare cose, mentre cerchiamo uno da rapire decide di andare a fare cose cose, cose cose bene sta liscia questa è ancora la battaglia eh però non so perchè tu hai scoperto ma non è sicuramente voi trattando un pochino così tu hai scoperto che tu hai scoperto le tassi non c'è la merda nulla va bene va bene telefonata ok è stato un pochino vuoi non c'è la merda e poi non c'è la merda e poi non c'è la merda vogliamo 40 milioni ma non c'è la merda non c'è la merda non c'è la merda che c'è la merda e poi sull'edì che c'è la merda si chiudi qui è a uno di baras farlo bene questo gattino col cane che va a fare le cose e poi chiami la gente da telefono mamma vada no sei tu beh non è meglio che garantire i gaudi non è un gangsta eh no quindi non lo sai addirittura bene ok bene e missione completata ehm un altro mutuo... allora voglio dire quali sono le rossi che abbiamo sbagliato un attimo se davvero ancora non esiste le missione ora non abbiamo fatto vedere ok ah non abbiamo avevo tagliato sul bone e non abbiamo saluto abbastanza la realità di Franklin ma dai vabbè e ragazzi per poter sapere tutto nel prossimo episodio andremo da Simeon e per sapere tutto ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao